Salve, sono Matilda Celentano e sono il sindaco di Latina. Voglio parlare di disabilità. La disabilità è negli occhi di cui la guarda e io ci credo fermamente. Valutare le potenzialità della persona con disabilità è una sfida e anche un dovere per tutti noi amministratori pubblici. La gestione della disabilità sta vivendo grossi cambiamenti e questo è dovuto principalmente a due fattori, due fattori strettamente correlati fra di loro. Da un lato abbiamo nuove norme, dall'altro una diversa visione generazionale nel guardare la diversità. Ma cos'altro possiamo fare come amministratori pubblici per migliorare la qualità della vita dei cittadini? Così cosa possiamo chiedere al legislatore? Parliamone, confrontiamoci. Cari colleghi sindaci, la 41esima Assemblea Nazionale del Lanci è un'occasione importante per incontrarci e mettere sul tavolo le nostre esperienze ed elementi su cui riflettere per il bene delle nostre comunità che rappresentiamo. Non mancate, ci vediamo tutti all'appuntamento di Torino dal 20 al 22 novembre. Ciao a tutti, ci vediamo al Lingotto.